e bisogna andare un po' indietro negli anni per parlare dei miei inizi per quanto riguarda questa passione forte rivolta alle attività motorie in generale è un percorso un po' strano perché non era previsto che io facessi le scienze motorie se la comunicazione è così importante quanti esami di comunicazione si danno a scienze motorie? aprire la testa su differenti tematiche e pormi tantissime domande perché il bello di fare ricerca scientifica è che in realtà i dubbi aumentano, non si colmano essere un motivatore vuol dire principalmente essere un esempio cioè io credo in quello che faccio, io credo in quello che dico perché lo faccio io io non so, la vita bisogna sapersela accarezzare, coccolarla, bisogna amarsi prima di amare gli altri benvenuti a un'altra grande puntata del talk scienze motorie.com oggi in compagnia di un grande ospite Rosario Maddaloni, ciao Rosario e benvenuto grazie, grazie mille Rosario è un atleta delle fiamme oro e campione di badminton uno sport molto interessante, sono felicissimo di averti qua in questo spazio parliamo di scienze motorie, di sport presentando professionisti e atleti come te nel tuo caso lo facciamo condividendo un'ottima tazza di tè e la prima domanda che ti faccio per questo curiosissimo sport è come è iniziata la tua passione? allora la mia avventura è iniziata all'età di nove anni in provincia di Roma, esattamente a Santa Marinella ho scelto questo sport per curiosità di questo buffo nome, badminton e quando arrivò a questo foglio con tutti i sport tutti i miei amici sceglievano i classici basket, pallavolo e calcio io ho messo il mio nome a fianco a badminton proprio per curiosità del nome non sapendo cosa sia quindi la curiosità è una caratteristica che ti rappresenta sì, sono molto curioso per partire e questo ti ha premiato perché sei un campione che gira tutto il mondo facendo dei tornei molto importanti quindi questo poi come tu hai iniziato a fare questo sport poi cosa è avvenuto, cosa è successo? praticamente da subito ho potuto allenarmi in un buon club adesso purtroppo non esiste più dove ho cominciato da agonista subito all'età di 12 anni avevo già vinto il mio primo campione italiano under 15 ho avuto la fortuna però che in questo club si allenassero molti atleti della nazionale italiana per cui era un centro molto frequentato da atleti io quindi prima facevo i miei allenamenti poi mi fermavo a guardare loro quindi è stato facile da lì avere l'attenzione della federazione di allenamento badminton ok, quindi tu hai anche delle caratteristiche abbastanza naturali per il gioco perché è una cosa iniziare e una cosa invece eccellere immediatamente è uno sport molto faticoso il badminton è molto particolare quali sono le caratteristiche di questo sport? come si svolge? allora, è uno sport dove innanzitutto dico che la pallina non rimbalza quindi è uno sport che ti costringe ad essere sempre attento su questa palla perché non rimbalzando devi rincorrerla quasi per prenderla al volo bisogna essere molto agili non troppo pesanti perché bisogna essere molto reattivi per prendere la palla è uno sport completo dove c'è resistenza fisica, potenza esplosiva e reattività di riflessi perché la pallina viaggia a velocità elevatissime ok, le caratteristiche sono quindi tu giochi con questa pallina che vediamo qua queste sono piume vere piume d'oca dell'ala sinistra dell'ala sinistra, come mai questa particularità? non lo so, non te lo so dire è proprio scritto così, le prendono le piume da quest'ala sinistra che ha un taglio diverso ok, e 6 grammi di peso? solo 6 grammi leggerissima e raggiunge la velocità di? allora, in partita ha superato abbondantemente 320-330 km di orari su vari test ha superato i 416 km di orari quindi la pallina più veloce al mondo? esatto incredibile e l'altro attrezzo che usi è questa racchetta ugualmente molto leggera e piccolissima sì, pesa solo 80 grammi e a differenza del tennis squash al piatto corde piccolissimo veramente piccolo il che rende un pallina a 6 grammi che viaggia a 300 km di orari e una racchetta molto piccola è veramente difficile veramente difficile, sì c'è una rete anche in mezzo? c'è una rete che divide due avversari alta 1,50 m al centro un paio di centimetri più alta verso i paletti esterni e niente, noi il campo è 13 metri per 6 ovviamente diviso in due e noi dobbiamo colpire questa pallina da distanze molto ravvicinate in media colpiamo un volano al secondo mamma mia, incredibile sì, perché ci sono colpi che possiamo colpire da distanza ravvicinata come me e te come colpi molto vicini alla rete o se ci allontaniamo da qualche metro colpiamo il volano a velocità altissime incredibile infatti quali sono le caratteristiche diciamo atletiche che ti sono richieste perché per esempio per quanto riguarda le millimoli ho avuto una conversazione con Lorenzo il tuo preparatore fisico e mi ha parlato di 2-3 millimoli di lattato prodotto mi hai detto fate anche dei test sulla V2 Max e via dicendo quali sono le caratteristiche, i numeri che vengono fuori da questi dati? allora, essendo sport intermittente non si raggiunge sempre il lattato non si alza solo se lo prendi all'istante dopo uno scambio di 30-40 colpi i millimoli salgono di lattato la prestazione è molto siccome è intermittente è molto anaerobica quindi devi essere anche preparato fisicamente di fiato insomma perché quasi non è tempo di respirare insomma il volano si colpisce in continuazione fai affondi, si salta cosa che è più raro in altri sport molto simile il gesto a quello della pallavolo quando si schiaccia è molto impegnativo raggiungiamo battiti in media 160-170 durante la partita con picchi submassimali di 180 battiti al minuto è un sport molto impegnativo sono tre set che giocate? sì, tre set se i due giocatori hanno vinto entrambi un set si va al terzo set ok quindi non c'è un tempo ma la partita ha una durata variabile da 20 minuti, un'ora e mezzo sì una media di 40 minuti e non ci sono pause no, l'unica pausa che hai ad 11 di ogni set dove l'allenatore può entrare in campo e ha 60 secondi di tempo per darti qualche consiglio altrimenti non ci sono pause come nel tennis dove puoi richiedere una nuova pallina o un asciugamano insomma non esiste anzi viene richiamato e molte volte puoi essere anche ammonito tempo poi di cambiare il set quindi cambi di campo altri 30 secondi e si ricomincia a giocare ok e dunque i tornei si svolgono in giro per il mondo in quanti tornei fai? in Italia in percentuale o nel mondo? in Italia purtroppo pochi perché sono sempre in giro con la federazione italiana a badminton con la nazionale in giro per il mondo in Italia c'è un campionato a squadre nella Serie A ci sono 10 squadre va da settembre a marzo più o meno anche di buon livello insomma ci sono vari circuiti che purtroppo io non posso partecipare perché come ho già detto vado con la nazionale in giro per il mondo c'è un calendario fittissimo di tornei tu puoi scegliere qualunque torneo tu vuoi e niente tocchiamo 5 continenti e ci sono tornei ovunque tu sei spesso fuori? molto spesso fuori sì quanti tornei fai durante l'anno? allora in me quest'anno siccome è un anno particolare per me ho provato la qualificazione olimpica l'anno olimpico che dura un anno ho fatto 27 o 28 tornei una media di 3 tornei al mese incredibile e quali sono i continenti in mezzo di viaggio di tutti i continenti? quelli che frequenti maggiormente quali sono? Centro America e Sud America ok sì in quali paesi? veramente tutti Brasile, Messico, Cuba, Guatemala Jamaica, Porto Rico e così via questo da quanti anni è che lo fai? io ho iniziato l'attività da professionista al 2008 quindi sono quasi dieci anni che giri ininterrottamente il globo sì ho quasi 150 tornei internazionali alle spalle il badminton dov'è che nasce presumibilmente? dov'è che si è sviluppato? quali sono i paesi dove è più famoso? diciamo così è famosissimo in Asia è sport nazionale la maggior parte delle nazioni asiatiche la Cina domina su tutti quasi il badminton nasce in India nelle colonie inglesi indiane esattamente a Puna la data è intorno al 1800 penso e poi si è gli inglesi credo proprio una nella casa proprio di badminton gli hanno dato le regole le misure del campo e così via quindi in Inghilterra diciamo sì sì infatti anche io ricordo le prime immagini che ho visto del badminton erano in Inghilterra non sapevo che fosse così diciamo diffuso in India e in Asia non potevo immaginare insomma esattici sembrano molto propensi anche loro al badminton sì e per quanto riguarda il tuo rapporto con la preparazione fisica visto che giri così tanto come fai ad allenarti quali sono i tempi come ti organizzi allora se sei costretto a viaggiare così tanto come è successo per me in questo anno olimpico sfrutti anche qualsiasi modo anche in camera di hotel per prepararti l'allenatore ti lascia un programma che fortunatamente puoi fare a corpo libero per mantenere un po' la forma del post viaggio insomma col jet lag queste cose qui e di badminton sfruttiamo il pre gara o il post gara diciamo le federazioni ti mettono a disposizione degli orari dove tu puoi allenarti un paio d'ore prima dell'inizio delle gare ok cioè veniamo qualsiasi orario domenica il rapporto col preparatore fisico com'è? è sempre in costante comunicazione soprattutto quando viaggiamo tanto ti propone sempre esercizi da fare in qualsiasi momento conosco il mio preparatore da quando ho iniziato l'attività al centro nazionale di milano dal 2009 perché il 2008-2009 l'ho passato in Danimarca ho fatto questa esperienza conosco il mio preparatore quindi come dicevo da tantissimi anni e ci scambiamo messaggi su quello che è la preparazione viaggiate insieme? purtroppo no perché lui segue comunque il gruppo della nazionale Juniores anche che è di distanza a Milano però molto spesso ci segue anche lui se il viaggio comporta 3-4 settimane fuori lui ci segue e cerchiamo sempre di prendere hotel con una palestra un gym una gym e quindi ci segue 24 ore ok per quanto riguarda invece la cura dell'alimentazione come ti gestisci? questo è un altro aspetto molto importante che la federazione ci tiene moltissimo noi siamo obbligati per quanto riguarda noi professionisti siamo 3-4 al centro nazionale siamo obbligati a seguire la dieta prescritta dal nutrizionista e dal nostro dottore medico federale presso la nostra struttura che è il pala badminton di Milano quindi il pasto principale che è quello tra i due allenamenti il pranzo lo seguiamo lì è già stabilito non possiamo cambiare insomma ci sono un tot di grammi di pasta un'insalata per cominciare e poi un secondo piatto che è carni bianche appena scottate poco condite e questo è il piano nutrizionale per quanto riguarda la mia vita poi per cena sono un po' più libero sono a casa e cucino senza sgarrare troppo quello che voglio e senti questa esperienza in Danimarca di quei che mi hai accennato come è stata come è iniziata avevo da poco finito gli studi e volevo volevo allenarmi tutti i giorni a Santa Manella dove vivevo purtroppo non potevo farlo ho fatto richiesta alla mia federazione al tempo il nostro direttore federale era un danese per cui mi ha dato la possibilità di andare in Danimarca dove sono i più forti d'Europa in assoluto e competono a livello mondiale mi sono trasferito in questa accademia ho avuto la fortuna di allenarmi in un buon centro seguito da un ottimo allenatore è stata una bella esperienza ci sono stati momenti difficili nella tua carriera ci sono come li superi? ce ne sono stati molti soprattutto quando devi raggiungere un obiettivo che è quello olimpico importante in quest'anno mi vedeva fuori continuamente a volte vai in un altro continente giochi la prima partita e perdi al primo turno a volte vedi la difficoltà di raggiungere questo obiettivo poi anche un po' il peso di essere l'atleta dei punta della federazione e tutto un peso del badminton italiano addosso per fortuna siamo seguiti da uno psicologo psicologo dello sport che è molto bravo abbiamo un colloquio molto frequente ci segue sia in campo che fuori dal campo molto spesso ci ha seguito anche fuori è venuto con noi in alcune delle nostre trasferte e niente puoi superare anche solo con un colloquio amichevole con il tuo psicologo momenti difficili e ce ne sono devo dire la vita di un giocatore di professionista certo i giocatori più forti con i quali ti sei scontrato dove li hai trovati? il numero 15 del mondo anzi forse il numero 13 parliamo di un asiatico un giocatore di Hong Kong ai campionati del mondo in Indonesia della scorsa estate è stata una bellissima esperienza e ho giocato molto molto bene diciamo che loro fanno uno sport proprio quasi differente a quello che praticiamo noi perché sono dei mostri in questo sport quali sono le differenze che riscontri? avendo loro un bacino di utenza elevatissimo 10 volte 20 volte superiori alla media europea quello che resiste a questi allenamenti così duri ne esce un campione guardando la classifica mondiale nelle prime 16 20 posizioni 13 12 sono asiatici in Cina Corea Malesia Indonesia e così via la differenza sono la velocità dell'esecuzione la resistenza queste qui sono le caratteristiche sì e il numero di ore che si allenano è maggiore a quella loro smettono un po' prima l'età media asiatica è più bassa quella europea noi riusciamo ad arrivare anche fino ai 32 33 anche 34 anni c'è stato un campione danese che è riuscito ad arrivare a buonissimi livelli tra i primi al mondo a quell'età gli asiatici intorno ai 26 27 cominciano ad acciaccarsi ma c'è subito un ricambio c'è 18 anni 19 anni che arriva in alto ok nella tua vita ci sono stati dei mentori persone alle quali hai fatto riferimento che siano parentali o campioni che hai seguito persone che ti hanno ispirato anche a fare quello che stai facendo ricordo quando ero piccolo vedendo le olimpiadi in tv precisamente Sydney 2000 quando Pino Maddaloni parente un po' alla lontana mio però portiamo lo stesso cognome vinse le olimpiadi di judo quando si commosse lì sul podio ho detto anche io voglio andare alle olimpiadi avevo appena iniziato badminton poi con lo stesso cognome non potevo non provarci e quindi è stato un po' il simbolo che mi ha portato fino a qua poi sport diversi e così via ho avuto anche la fortuna di conoscerlo di chiacchierare con lui quindi diciamo questa ambizione bellissima nel vedere una persona che vince olimpiadi dire anche io lo voglio fare e riuscirci perché insomma sei diventato un campione sei un campione come vivi adesso questa tua esperienza e questa tua responsabilità? la vivo con serenità anzi con felicità perché sapere di essere un modello dove i piccoli che apprendono questo sport giovane perché l'Italia non c'è da molti anni mi fa piacere insomma ricevo messaggi di di affetto insomma dai più piccoli e anche io ricambio insomma con piccoli gesti ti fa piacere è una bella responsabilità insomma cercare di di mantenerla è ancora più difficile però ci provo anche perché riuscire a essere centrati e mantenere questo grado di focalizzazione viaggiando così tanto in un'età particolare perché tu hai 28 anni corretto? sì ad agosto insomma sono tanti anni che lo stai facendo c'è da prendere assolutamente esempio immagino che anche la responsabilità appunto di essere un esempio per ragazzini molto più piccoli sia una cosa importante la federazione da un paio di anni ha aperto la possibilità più giovani di me di iniziare una vita un po' più professionale abbiamo ragazzi del gruppo Uniorres che hanno dai 13 ai 17 anni ci confrontiamo sempre loro chiedono consigli aneddoti insomma a me fa piacere con loro scoprire il badminton e niente è una bellissima cosa abbiamo ho la fortuna di essere entrato con la polizia che questo ringrazio le fiamme oro della possibilità per la prima volta aprono a questo sport e spero ne seguino altri di corpi armati che ci seguono fa solo piacere infatti tu hai la maglia che riporta polizia questo è uno sport che viene finanziato nel senso tu sei all'interno della polizia ed è per questo che riesci a viaggiare così tanto diciamo che la nostra la mia federazione la federazione della badminton ci ha sempre supportato anche prima dell'arrivo della polizia è una federazione importante ha il suo centro nazionale autonomo ha sempre supportato tutti noi anche da prima insomma hanno fatto grandi sforzi adesso con la fortuna abbiamo un posto levati dall'incarico e ci sopporta la polizia di stato i tuoi prossimi appuntamenti quali sono? a breve andrò in Spagna il campionamento internazionale di Spagna a fine giugno e poi un periodo di allenamento di due settimane in Spagna sempre sempre lì perché il nostro allenatore è spagnolo quindi ci ha disponibilità in quell'area insomma e poi a settembre ricomincia la stagione con un calendario fitto di appuntamenti quante stagioni prevedi ancora di poter supportare diciamo perché sono un impegno molto importante fisicamente sto bene ho 28 anni un altro quadriennio voglio assolutamente farlo sono in attesa in questi giorni di sapere il mio destino per Rio anche se non è del tutto finita sono in attesa di sapere come andrà a finire sono il quinto della lista tra le riserve speriamo di riuscirci in questo in questo sogno per Tokyo 2020 mi sento ancora più maturo e voglio provarci ancora di più bene senti chi ti vuole seguire dove ti può trovare hai dei canali social un sito di riferimento ho la mia pagina facebook d'atleta insomma Rosario Maddaloni mi trova facilmente oppure sul sito della federazione italiana badminton badmintonitalia.it può seguire tutto tutto l'andamento del badminton italiano e anche i miei tornei internazionali e così via benissimo io Rosario ti ringrazio di essere stato con noi è stato veramente un piacere scoprire con te uno sport così bello così interessante così avvincente spero che chi ci segue sia altrettanto interessato e ti segua nelle tue prossime avventure io ti fò per te grazie e ti auguro veramente tutto il meglio per continuare a fare alla grande quello che stai facendo grazie vi ringrazio ciao 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 ciao